Io non credo che il Governo voglia andare avanti, c'è questo disegno che è nella mente del Premier Renzi che è quello di sopprimere prefetture e sovrintendenze, ma fare le riforme è giusto, fare le riforme senza farle con il territorio è un grande e grave errore. Il Ministro Alfano ci ha assicurato che il provvedimento per ora sarà congelato e sarà congelato in attesa di sapere dai territori, quindi dai comuni, dalle regioni, qual è la soluzione migliore da dare al nuovo assetto istituzionale e anche della rappresentanza degli uffici periferici dello Stato. Togliere prefetture vuol dire togliere lo Stato dal territorio, togliere le prefetture quando non ci sono i criteri oggettivi perché ciò avvenga, come nel caso di Chieti, vuol dire soprattutto fare un grave danno e soprattutto rompere una filiera di fiducia nei confronti delle istituzioni. Lei si incontrerà nuovamente con il Ministro Alfano, cosa gli dirà, qual è la proposta che porterà? Guardi, io già l'ho sentito sabato mattina, il Ministro Alfano lo incontrerò ancora in settimana, la linea resta quella di congelare il provvedimento così come era stato predisposto dagli uffici e andare ad una nuova visione amministrativa della riorganizzazione degli accorpamenti delle prefetture. In questo io ho fiducia che il Governo comprenderà che non sempre quello che sulla carta per un ragioniere appare essere la quadra di un numero, poi nella realtà territoriale avviene.